La gioia del parto, senza la possibilità però di avere i propri affetti vicini nei primi giorni dopo la nascita del neonato. Così, durante la pandemia a causa del Covid, ora finalmente si ritorna alla normalità. Per le puerpere, ma anche per le donne ricoverate per complicanze della gravidanza, è nuovamente prevista la presenza di una persona di riferimento o del papà in modo continuativo. Dalle 10 alle 21, negli ospedali di Pimercate e Carate, dalle 8 alle 20, al Pio undicesimo di Desio. La presenza è comunque garantita durante il travaglio, il parto e nelle due ore del postparto, condizione necessaria non avere sintomi respiratori, compilare la checklist ad ogni ingresso e indossare una mascherina FFP2 per tutto il periodo di permanenza in reparto. Restano invariate invece le visite per le pazienti ginecologiche e in appoggio ad altre specialità nei reparti di ostetricia e ginecologia, una sola persona al giorno, compilazione di checklist a ogni ingresso, nelle fasce orarie fra le 12.30 e le 13.30 oppure dalle 18.30 alle 19.30. Tra le novità più importanti, la possibilità di portare assistenza continuativa durante tutto il periodo di digenza, data ai caregiver di pazienti minorenni o in condizioni di fine vita. Anche per questo è necessario ottenersi alle condizioni già segnalate, checklist ad ogni ingresso, frequente igiene delle mani, utilizzo delle mascherine, preferibilmente FFP2. Per tutti gli altri pazienti, l'assistenza continuativa deve essere concordata con il personale di reparto. A breve, conclude la direzione sanitaria di ASST Brianza, verrà ripristinata la presenza presso il presidio ospedalieri delle associazioni di volontariato.